Ciao amici di MyFoodleJersey, oggi vedremo insieme la prima maglia del Liverpool per la stagione 2022-2023 e la versione FUN, quella un po' più confortevole e dedicata ai tifosi. La maglia è completamente rossa, gli unici elementi di contrasto sono lo swoosh bianco della Nike, lo stema del Liverpool e gli sponsor della maglia che sono ripresi dall'attuale divisa. Il collo è a girocollo, con bordatura in tono alla maglia. Il design audace e senza frontoni, riflette la mentalità della sua gente, una mentalità che rende il Liverpool unico. Floretto della maglia, lo stema 97 racchiuso dalle fiamme eterne, siede con orgoglio sulla nuca in memoria dei bambini, delle donne e degli uomini che hanno perso la vita nella tragedia di Hillsborough. La tecnologia AeroReady utilizza tessuto antiumidità ad asciugatura rapida, comfort e freschezza ideali in ogni situazione. Cosa ne pensate della maglia? Nella mia classifica questa prende 3 stelle. Ero un po' indeciso, volevo darne 4 però, devo dire la verità, quella dell'anno scorso mi piaceva molto di più e quindi ho deciso di darne 1 stelle. Però la maglia è fatta molto bene, curata in ogni dettaglio, con un bel tessuto, è veramente incredibile che si trovi soltanto al costo di 24,99$, compreso le spese di spedizione. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia. Ora, prima di lasciarvi, se volete avere altre recensioni in futuro e se volete acquistare questa maglia, vi prego di usare il link che trovate in descrizione, in modo da ricevere un coupon di 5$ per voi ed aiutare il canale a poter crescere e a poter acquistare altre magliette. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan o Stadium, la versione un po' più confortevole dedicata ai tifosi.